Buongiorno, oggi è il 27 settembre 2024 e questo è il penetrometro dinamico per le caratteristiche, la caratterizzazione del terreno di sottosuolo per la costruzione di un nuovo fabbricato agricolo. Bene, abbiamo trovato nel primo metro terreno poco densato, ricco di sostanza organica a colore marrone scuro, prevalentemente sabbioso e poi al di sotto il metro ritroviamo del terreno sabbio limoso di colore ocra, molto addensato con buone discrete caratteristiche geotecniche. Questo ci permetterà di appoggiare la fondazione con tranquillità su questo livello. La falda è prossima alla superficie a profondità intorno ai due metri e anche meno e dal punto di vista geomorfologico sono zone di pianura stabili da parecchi millenni e corrispondono a dei dossi di pianura. Come classificazione del suolo questi sono alfi suoli, suoli molto antichi. Questo è tutto, un saluto da travensoolo Roncoleva, provincia di Verona.